10 marzo 2018 Milano Gennaro Gattuso, 40 anni, allenatore del Milan AP dopo l'inizio sciocche la serie di 13 risultati utili consecutivi, questo è il momento della reazione Per Gattuso, reduce dal K, o, di Europa League contro l'Arsenal Una Novit, mi piaciuta l'atmosfera di questi giorni, di rabbia, delusione e pochi sorrisi C'era voglia, mi piace se una sconfitta brucia Abbiamo cercato di capire perci siamo stati sotto le nostre possibilit, non abbiamo giocato da squadra come invece avevamo fatto ultimamente Il primo responsabile sono io ma almeno abbiamo capito che siamo vulnerabili Poi Rino puntualizza, ci siamo gasati e fatti prendere dall'entusiasmo, cosse certe legnate possono fare bene se non ci abbattiamo Anche per mi, tutto nuovo, ci vorranno 15 ventesimi partite per crescere Cambi, Rino anche per questo cambia, dentro Borini e Kalinic, fuori Calabria e Cutrone Dover cambiare anche la mentalit, ho fatto il giro dei confessionali e controllato i dati che abbiamo Speriamo tanto ma dobbiamo sviluppare meglio la fase offensiva ed essere più cattivi Gattuso era curioso di capire come la squadra avrebbe reagito dopo il primo schiaffo, abbiamo corso quanto loro, indicativo come lo fai Non cerco alibi, non stato il derby saltato è nel fatto che molti dei nostri conoscevano a storia farci vivere una serata sbagliata Ora testa al Genoa, ci sarà da battagliare contro una squadra aggressiva che sa quello che deve fare Non pensiamo al ritorno di Londra che sarà da Milan Le sconfite restano se indossi una maglia gloriosa, non andiamo in gita, possiamo ancora dire la nostra